Torna a Sala Consilina il progetto I Fiori della Speranza, realizzato dall'Associazione Una Speranza Onlus e dall'Istituto Cicerone. Partito nel 2019, era rimasto fermo per via della pandemia e ora viene riproposto. È una campagna di raccolta fondi ad opera degli studenti dell'agrario. Ogni giovedì fino a maggio, durante il mercato settimanale salese, nello spazio antistante il plesso del liceo classico di Via Matteotti, i ragazzi predisporranno uno stand dove sarà esposta una varietà di piante coltivate nelle serre. Le piantine potranno essere acquistate e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Una Speranza Onlus. Il progetto, spiega la dirigente scolastica Antonella Vairo, si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni su tematiche sociali importanti, quali la fratellanza e l'integrazione, per valorizzare le capacità dei diversamente abili, favorendo la cultura del superamento delle barriere, mediante il volontariato. Si ritengono molto soddisfatti delle finalità didattiche socioculturali e degli accordi del progetto i docenti Sergio Moccaldi, coordinatore di indirizzo, Roberto Labanca, che dirige e organizza il piano di lavoro, e Marianna De Vita, promotrice del progetto, che anticipa di altre collaborazioni in programma tra l'Associazione Una Speranza Ollus e gli studenti dell'Agrario di Sala Consilina.